buongiorno 6 e 30 puntuali e siamo venuti nel luogo dove tutto è iniziato Anna buongiorno, Giussi buongiorno, Nunzia buongiorno Corre l'Uvaglione dentro il centro sociale Corre l'Uvaglione dentro il centro sociale Corre un metal meccanico che brandisce una piella Corre quella corpissin che non è tanto bella dentro il Pantheon non ci sono finestre per cui se mangiate fagioli il giorno dopo non entrate nel Pantheon perché l'unico punto di sfogo è il tetto ah guarda che spettacolo questa ora con questa foto non sai quanti like farà su Facebook eh? quando torna lì in Cina o in Giappone non lo so Simona da Bologna dove sei? Allora sono a Itri, provincia di Latina Buongiorno 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 Vi ha portato sulla spiaggia di Tirrenia Dalle 6 e 30 la mattina è tutto più bello e affascinante E tu chi sei? Tito Tito Hey Stiamo facendo questa analisi storico sentimentale Vogliamo capire, queste sono i visiti di questa notte Dobbiamo capire se questa coppia ha litigato O se le ha lanciate come si lancia la chiave dal ponte Mibbio Vi saluto, è stato un piacere Ci vediamo a settembre